E' un premio, in pratica si parla di yacht dai 50 metri in poi, dove noi a marzo di quest'anno ospiteremo a Trieste il comitato direttivo che sceglierà e premierà, si tratta di un award, come dire, un premio importante al miglior progetto, eccetera. Poi, tutto questo è propedeutico perché grazie a questa ospitalità che daremo a Superyacht avremo la possibilità di ospitare l'evento nel 2016. E cosa vuol dire questo? Vuol dire spostare l'attenzione di questi mega yacht dei comandanti e dei armatori dal tirreno, dove sono ormai fissi da anni, portarli in Adriatico. Contando in rada quante sono le petroliere, circa 10-12, nessuno sa che ognuna di quelle lascia 70 mila euro sul territorio, vero? Sono giuste queste cifre. E sentivo, poi non so se lei me lo confermerà, che i mega yacht riuscissimo a portare a Trieste questo mercato, sarebbe 100 mila addirittura, vero? Ma no, molto di più, perché loro fanno... Perché è lusso. Perché già pagano soltanto per sostare 1000-1500 euro al giorno, per cui parliamo di queste cifre. Poi fanno Cambusa, a Cambusa comprano di tutto. Gli ospiti dormono negli alberghi, i comandanti, se la base è fissa... Lo lasciano qui. Sì, lo lasciano qui, ma li acquistano anche degli appartamenti per vivere con la famiglia e i comandanti, che non vivono su tutto scavo. Ci sarebbe una ricchezza... Ci sarebbe una ricchezza da far paura e poi questa cosa attira l'attenzione, attira gente, arrivano ospiti con le aerei privati, con le aerei di linea... Un mercato del lusso. Un mercato del lusso che noi abbiamo tutte le condizioni come Trieste a portare ospite. Mega yacht. Grazie a tutti.